Due partite vinte in casa, una in trasferta, otto gol realizzati, zero subiti. Questo l'impressionante tabellino di marcia che vede il Melfi in classifica in eccellenza a punteggio pieno, a tre punti dalla vetta con una partita in meno. Sentiamo Fabio Lamorte che domenica scorsa ha sbloccato la partita contro il Real Metapontino. Beh sì, certo per il difensore non è mai una cosa normale fare gol, però ci ho creduto. Poi Mimmo Labboraggine mi ha messo una bella palla e è andata bene così. Continua questo campionato con il Melfi a punteggio pieno, ma è un campionato che non è semplice. Sì, più o meno ce la giochiamo con due o tre squadre come Rotonda, Lago Negro, il Villa d'Acri anche. Però noi ci crediamo, abbiamo una bella squadra per vincere il campionato e vediamo come andrà. Difesa blindata, otto gol fatti, zero subiti. Sì, una bella soddisfazione per noi per il reparto difensivo, ma come tutta la squadra. Poi se non prendiamo gol è più facile vincere, speriamo di andare così. Resta il gruppo un viatico essenziale per vincere questo campionato? Io e Nico conosco da un bel po', siamo stati insieme alla Samp. Poi siamo un bel gruppo, siamo tutti affiatati, quindi... Buon viatico per vincere un campionato. Beh, si parte dal gruppo, poi ben vengono i risultati e soprattutto la vittoria di questo campionato.